Nessuna diffidenza a priori verso il governo, ma neanche una condiscendenza acritica verso tutte le scelte dell'esecutivo che non convincono gli amministratori locali. Questo l'atteggiamento con cui Lanci intende portare avanti il confronto con Roma sulle grandi scelte che riguardano il futuro degli enti locali. La linea, condivisa dalla stragrande maggioranza dei sindaci italiani, l'ha indicata Piero Fassino, presidente del Lanci e primo cittadino di Torino, aprendo l'Assemblea Nazionale dell'Associazione al centro congressi del Lingotto. Parlando a una platea che videva in prima fila i ministri Alfano e Del Rio, Fassino ha giudicato più che positivamente la legge di stabilità del governo Renzi, almeno per quanto riguarda il rapporto fra Stato e Comuni. Rimangono le criticità per province e città metropolitane, alle prese con 500 milioni di tagli che la legge di stabilità assegna agli enti locali di area vasta. L'Assemblea annuale del Lanci si colloca in un momento molto importante, mentre si consolida sempre di più una ripresa economica che ci fa uscire dalla crisi di questi anni e all'indomani della legge di stabilità, una legge di stabilità che apre una stagione del tutto nuova nel rapporto tra Stato e Comuni, perché dopo anni e anni di leggi di stabilità e leggi di bilancio fondate sui tagli e sull'austerità, per la prima volta c'è una legge di stabilità che invece ha l'obiettivo di favorire la ripresa degli investimenti, la ripresa dei consumi, è espansiva e non taglia risorse ai comuni. Non c'è tema che riguarda la vita delle persone, delle famiglie e delle imprese che non passi per le schivanie di un sindaco e quindi l'Assemblea di Torino è l'occasione per rilanciare con forza le proposte intorno a cui garantire ai comuni quell'autonomia finanziaria e organizzativa che è essenziale perché i comuni siano in grado di corrispondere alle attese e alle aspettative dei cittadini.